ragazzi mi ritrovate un altro video sul giappone se vedete logicamente che l'audio non combace con il video perché nel tempo libero ho registrato l'audio e poi ho fatto il video il tempo è sempre tiranno ma cerco di portarvi i contenuti dal giappone poi l'argomento che tratto oggi è un argomento che l'ho tratto dall'esperienza personale dalla visione generale che ho io personalmente non ho né una laurea in economia quindi non non mi metto sul piedistallo su quello che ne sa di più anzi invito voi nei commenti nell'ambiliare il discorso mettendo qualche link parlando della vostra esperienza più che altro mi sono molto incuriosito da questo articolo che è uscito da da pochi giorni che porta il giappone con un nuovo record per quanto riguarda l'offerta di lavoro rispetto alla domanda si parla che ogni 100 persone che cercano lavoro in giappone ci siano 160 e oltre posti di lavoro disponibili vediamo che non è specificato né la tipologia del lavoro né da parte di chi lo richiede ma viene fatta una visione più oltre molto generale della situazione quindi si pone il giappone con una percentuale di disoccupazione che è poco sopra il 2 per cento ma raga 2 per cento in giappone in base all'intera popolazione circa 3 milioni di giapponesi che non hanno lavoro poi la maggior parte del lavoro che viene richiesto nelle costruzioni nelle fabbriche a livello di dipendenti centri commerciali e cassieri una sola una parte si è quella che viene richiesta nelle negli uffici ma non non è l'unica quindi porta la situazione nel c'è sempre meno meno giapponesi che vogliono fare lavori più pesanti o economicamente meno pagati perché praticamente indipendente in ufficio un'azienda prende di più di un operaio che ne sono nelle costruzioni quindi il discorso stipendio è fatto anche che molte volte le ore straordinarie in alcuni lavori non vengono pagate cioè viene fatto un contratto nel quale viene previsto una paga totale poi se la persona va oltre e sfora l'orario cosa che succede praticamente una cosa anzi una condizione molto normale qui in giappone di andare oltre l'orario c'è contratto per quanto prevede che alle 5 e mezza 6 si finisce lavorare ma non è mai così ma quelle ore in più non vengono pagate o alcune volte vengono pagate sotto se vengono dimostrate il perché al dipendente ha lavorato oltre il limite quindi non è detto manco che che ci sia una forma di accordo poche aziende garantiscono che ogni ora venga pagata extra pochissime quindi diciamo la richiesta e la domanda offerta giocano comunque un ruolo molto particolare il giappone alla fine si sta muovendo verso l'accoglienza di nuovi stranieri con visti speciali specializzati e meno specializzati diciamo soprattutto che riguardano il mondo dell'industria della ricoltura allevamento di tutto quello settore che non interessa più la nuova generazione quindi c'è una carenza di persone nelle zone più esterne delle città nei piccoli paesi nelle piccole comunità un aumento della popolazione nelle grandi città perché tutti vogliono come andiamo in Italia raga in Giappone sta succedendo la globalizzazione porta tutti i paesi e le pressioni di Giappone a muoversi in questa direzione né bene né male quindi tenete presente che questo gioco è una triste realtà le condizioni economiche stanno cambiando soprattutto adesso il Giappone si pone davanti al nuovo cambiamento a livello di tassazione con l'aumento del diciamo quello che si chiama per sì posso chiamare IVA dall'8 al 10% e il costo dei beni di prima necessità in aumento anche se io ritengo che Giappone abbia una tassazione molto bassa che si può permettere di alzarla leggermente anche però questa tassazione bassa porta anche una forma di una forza economica notevole da parte Giappone che contrasta un debito pubblico spavendoso che prima o poi sto paese dovrà farci i conti perché prima o poi per evitare un'altra crisi che si arriverà sarà molto molto peggiore di quella degli anni 90 perché la nuova generazione non ha un'idea di quello che è successo alle 90 soprattutto a sto giro chiuderanno molto più attività di quelle che anzi già molte aziende grandi stanno cominciando a fare grossi licenziamenti leggermente leggermente ci sta una forma di ricalcolo delle priorità ed è un problema più che altro diciamo tolto uno dice vabbè vede l'articolo guarda in Giappone c'è una tassazione il discorso semplicemente molte aziende proprio mia moglie mi dice fanno a gara a prendersi nuovi lavoriati quindi ci sta meno gente che tende a lavorare in un'azienda anche se la discorso è il cane che si morde la coda il giapponese di 23 anni che si lavora vuole il lavoro pagato bene a lungo termine però non vuole affrontare delle responsabilità che portano comunque a degli orari a dei lavori un po' più complessi vuole la pappa pronta questa cosa non va bene quindi non vuole essere obbligato a fare delle materie di lavoro o delle materie di responsabilità però vuole lo stipendio alto queste due cose insieme non si possono avere molte aziende cercano di accaparrarsi i neolaureati perché ragione c'è proprio carenza di personale anche perché si sa che ogni ogni anno queste grandi aziende devono affrontare mega licenziamenti o malattie da parte dipendente che si dice che la media di un ragazzo giapponese di sopravvivenza primo lavoro difficilmente arriva a tre anni cioè tutte le nuove esperienze perché allora molti giapponesi mirano arrivare ai tre anni perché se tu dimostri di avere una certa esperienza cioè se tu cambi lavoro ogni tre quattro mesi non sei una persona affidabile se rimani sul posto di lavoro per 18 anni allora vuol dire che lo sei poi ci sarà stato un motivo che ti ha portato a licenziarti o molti giapponesi vogliono dimostrare di avere qualche forma di depressione dovuta al lavoro così più facile ottenere il licenziamento anche questa è una cosa molto particolare perché ci sono dei contratti che sono difficili da gestire cioè sono molto vingolanti da parte del sia da datore lavoro sia da dipendente quindi porta anche il datore lavoro nella difficoltà di poter licenziare il dipendente quindi il dipendente si ammala per ottenere il licenziamento ho una pausa cioè il discorso si vede che si rende molto complesso perché parte da un presupposto si spazia il grande del lavoro in giappone è anche dovuto a contratti a tempo determinato quindi molto a volte uno dice c'è un alto livello di occupazione di assunzione in giappone no è un'assunzione a un tempo c'è questi dipendenti non hanno un contratto indeterminato ma c'hanno dei contratti che vanno ne so fino a quanto il tuo lavoro ha bisogno li assume capace che un giorno dopo domani li chiama e gli dice guarda è stato a casa perché non ho più bisogno di te quindi non è vingolante un contratto 6 anni posta dipendente deve stare fino alla pensione con l'azienda ma non difficilmente verrà licenziato un baiuto e un part time part time non indeso come part time che molti confondono il concetto di arubaido col part time sono due cose totalmente distinte e separate perché part time può essere semplicemente un contratto di lavoro che va a rinnovarsi ogni sei mesi con delle clausole dei limiti uno pensa invece al part time e vuol dire che questa persona lavora mezza giornata il baiuto può lavorare determinate ore che possono essere tipo un giorno lavoro 8 ore tre giorni è libero e l'altro giorno lavoro 8 ore non è detto che lavori tutti i giorni 4 ore 4 ore 4 ore quindi molte volte molte persone non sanno bene come sono fatti i contratti in Giappone e fanno confusione perché cercano di tradurre il concetto del contratto di lavoro giapponese con il concetto del contratto di lavoro in Italia ma è completamente molto difficile e per te che mi sono incartato e per te che è impossibile ragazzi fa un freddo assurdo sto registrando e fa un freddo assurdo sono quattro chiacchiere queste cose ragazzi secondo me questa è una mia visione in base alla mia esperienza e quello che vedo le informazioni che ricevisco, i miei colleghi di lavoro quello che mia moglie mi dice su come... quello che vedo intorno a me cioè quello che vivo qua in Giappone quello che vedo in base all'economia di come si muove anche questa città voi cosa ne pensate? come vedete il discorso dell'occupazione in generale non si parla pure il fatto che c'è stato un cambiamento anche a livello di assunzioni c'è stato un aumento di assunzioni da parte in Italia non riguarda il dicembre ma molti di noi sappiamo già che quando si arrivi in progetto del Natale del periodo estivo c'è un aumento delle assunzioni di quelli stagionali quindi sembra che ci siano tanti assunti poi alla fine si sono assunti dopo tre mesi non c'erano più lavoro quindi in Giappone funziona la stessa cosa che si vengono calcolati i Baidu e quelli là i part-time nei centri commerciali non sono dipendenti a tempo illimitato ma sono tutti numeri che possono variare da un mese all'altro spero che il video sia stato di vostro interesse vi garantisco che filmare con... filmare, registrare l'audio con un grado vi porta al congelamento del perenne delle dita e delle mani cioè io una mano sinistra non la sento più però mi sembra un piacere poter condividere qualche opinione e parlare del Giappone con voi raga fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e al prossimo video al Giappone fate i bravi ciao 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 Grazie a tutti.